Il grande appuntamento del calcio dilettantistico siciliano all'esseneto di Agrigento in questa domenica non sventolano palme ma le bandiere di Acaragas ed Enna che a tre turni dal termine della regular season si giocano gran parte delle proprie velleità di promozione in serie D. Il signor Antonio Spera è la sezione di Barletta a cuo di vado da Calanni, Barcellona di Pozzo di Cotto e Conticello di Catania a testa e testa da queste due formazioni che è stato confermato anche nell'ultimo turno dove l'Acaragas ha trovato una convincente vittoria per 4-0 contro il Cus Palermo 3-0 dell'Enna rifilato all'oratorio San Ciro e San Giorgio e il clima delle grandi occasioni le due tifoserie l'una contro l'altra ma passiamo al fin di questa sfida al quinto il lancio di Garufo. Illuminante per Mansur che carica il diagonale buca Garuso e porta in avvantaggio il gigante dopo 5 giri di orologio si sblocca il parziale all'esseneto sull'assist Illuminante desiderio Garufo due minuti più tardi e Pavicic a innescare Semenzin attento in chiusura l'estremo difensore giallo verde inizio disbandamento dell'Enna confermato all'undicesimo con Pavicic che calcia dalla distanza sorvolando la trasversale giro di Poella prima frazione ancora un'imbucata geniale di Mansur che restituisce il favore a Garufo calcia trovando la respinta in corner di Garuso si chiude la prima frazione di gioco di predominio agrigentino ancora con Garufo che sguscia via sinistra dentro da Semenzin che si divora il gol del raddoppio va così in archivio la prima frazione di gioco sul duplice fischio del signor Spera di Barletta Agragas 1-0 decide sin qui la marcatura ad opera di Mansur quando con l'ausilio dell'immagine a cura di Salvatore Giglia passiamo al fin della ripresa che si apre al 48esimo la punizione di Garonia spizzata dal toro a Gudiac in bocca all'estremo difensore del gigante all'ora di gioco Mansur per Garufo prova ad armare il destro ampiamente largo alla sinistra della porta difesa da Caruso 64esimo rinvio di Elesai per Pavicic da sponda ancora per uno scatenato Garufo che non riesce a inquadrare lo specchio della porta al 68esimo Garufo già monito macchia la propria prestazione secondo giallo e conseguente rosso per questo intervento ai danni di campagna Agragas che dovrà terminare la sfida in inferolità numerica prova ad approfittarne l'enna dalla punizione che ne consegue il destro di Arcidiagono in bocca ad Elesai 76esimo punizione lunga per Semenzin che raccoglie il pallone praticamente dall'auto di fondo campo prova a incrociare il mancino senza che percorra alcun brivido lungo la schiena di Caruso dentro Carioto in luogo di Arcidiagono 81esimo scaletta per Carioto che manda la sfera in profondità male da Elesai favorisce la conclusione di Carioto che non riesce a coordinarsi bene allo scoccare però del novantesimo minuto di gioco viene ristabilita la parità numerica per questo intervento avventato di Zappalà ai danni di Vitelli 10 contro 10 rosso anche per Peppe Zappalà cerca l'arrembaggio all'arma bianca l'enna senza sortire gli effetti speciali superati il tripice fischio del signor Spera di Barletta regala la vittoria all'Agragas basta la rete di Mansur dopo 5 minuti di gioco a 180 minuti dal termine della stagione sono tre i punti di vantaggio del gigante sulla diretta in seguitice un saluto amici appassionati appuntamento come al solito alla prossima a Grazie a tutti.